Sì l'ho detto e mi viene rimproverato da, no non mica da te, da quello, c'è uno specialista, un cinecologo che pare che è specialista teologico per denunciare continuamente le mie deviazioni filoclericali. Ah vero, chi è Antinori? Il nostro ex radicale napoletano insomma. Aubaro, ho capito sì. Non mi viene il nome davvero, comunque non importa. Ah no 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 scusami, no vabbè lì è tutta un'altra cosa, stiamo parlando di Castaldi, vabbè ma lì è un dibattito d'alto livello Marco, su anche quello... Beh non è un dibattito, lo fa con se stesso. Vabbè lo farà con se stesso, ma Castaldi a mio avviso pone problemi seri, anche su Sturzo, devo dire che poi alla fine ha retto bene, via. Ma sì ma guarda a me, a me quello può essere un dibattito che mi interessa, perché lo faccio costantemente. Non è un suo interesse, vabbè ma insomma. Sì, dunque. Secondo me tu poi a dibattere con Castaldi ti divertiresti. Sì ma non ho molta voglia di divertirmi. Peccato. E lo so, nel senso che non ho voglia di divertirmi. Devi soffrire. Appunto, no, 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 appunto, appunto. No ma nel senso che è stimolante, ti dice cose che sono anche urtanti. No, nel senso che divertere non ne ho bisogno per essere così. No, è questo che voglio dire. Mi basta, capisci, non distrarmi dalla filone delle cose, tutto qua. E quindi all'interno questo include appunto quelle che per altri è divertirsi, divertirsi. Vabbè però questa cosa adesso di Castaldi, della cosa, mi sfugge. Ma se tu che la fai, sì sì. Me la vado a ricercare. No ma era comunque che... Hai citato tu, eh? No, sì sì, no, io ho detto anche da, perché quando espressi, dissi, da una personalità così complessa come questa, si potrebbe pure aspettare, invece l'inaspettabile dallo schema è quello reazionario, conservatore e vedi.